Allora, cominciamo da Bennato. Professor Bennato, la stagione alle nostre spalle, ovviamente non possiamo parlare di tutti i titoli perché questa è solo la prima puntata di Cinematografa Estate, sentiamo le sue preferenze. Dunque, per quanto riguarda le mie preferenze, ovviamente devo andare per forza a memoria, comunque con i film che mi sono rimasti più impressi. Allora, in primo luogo la stranezza, ovviamente perché c'è l'ambientazione siciliana e per il modo che ha avuto di raccontare la figura di Pirandello in un modo trasversale, questo sicuramente è la cosa che mi è rimasta più impressa. Poi c'è Siccità, perché mi è piaciuto molto questo film corale con cui si fa una rappresentazione di una catastrofe ecologica finalmente ambientata in Italia, per quindi vedere anche come la trasformazione dell'ambiente possa incidere anche dei luoghi che noi riconosciamo come può essere la città di Roma. Invece per quanto riguarda i film internazionali, in primo luogo sicuramente John Wick 4, perché io sono un appassionato ovviamente di film d'azione e John Wick è una delle serie che mi piace di più in assoluto. E poi sicuramente fra i film horror, The Menu di Mark Milod, perché secondo me è stato un modo straordinario per ironizzare su alcune stereotipi e fissazioni degli chef stellati e trasformandoli in dei serial killer. Quindi secondo me me l'ha reso molto piacevole. Ancora, ancora immagino il fascino di un film all'aperto d'estate. Ma io sono il professor Bennato. Loro andare nelle sale, nelle arene estive, quando ancora sto qualche giorno, qualche settimana a Catania, perché fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché a Catania d'estate c'è un'atmosfera magica, onirica, che se è possibile aumenta ancora di più la dimensione onirica della pellicola cinematografica, che a qualunque genere a essa appartenga. Questo è un primo aspetto. E poi perché per una cosa più, diciamo così, più affettiva, più tenera. Perché molto spesso mi capita di incrociare i miei studenti nelle arene estive. Ed è anche un modo interessante per, dopo un anno passato, a studiare, a insegnare, magari a fare esami. È anche un modo carino, tenero, per incontrarci e scambiare i punti di vista su le cose che abbiamo visto e anche le nostre riflessioni. Quindi secondo me è anche una dimensione umana questa dell'arena estiva vissuta a Catania. Comunque.